Titolo. Storie di Natale preferite. Il pupazzo di neve della Natale. Autore. Diana Sherman. Genere. Racconto di Natale. Piccola descrizione. L'avventura di un pupazzo di neve, che voleva essere speciale. Sammy. Era un bel nuovo pupazzo di neve. Aveva gli occhi a bottone. Il naso a carota, e una bombetta. Ma Sammy. Non voleva essere, un normale pupazzo di neve. Voleva essere, un pupazzo di neve di Natale. Un pupazzo di neve di Natale? Disse Squeaky Scogliattolo. Saltando giù, da un ramo per salutare. Ora, sarebbe qualcosa di speciale. Molto speciale. Ha detto Coaky Corvo. È sceso in picchiata. Ed è atterrato sulla spalla di Sammy. Ma come puoi essere? Un pupazzo di neve Natalizio. Bene. Disse Sammy. Prima, mi servono delle decorazioni. Ti viaggi molto Corvo. Hai visto qualcosa? Ti posso usare? Coaky Corvo? E pensò un minuto. Poi partì per il suo posto preferito, la discarica. Su un mucchio di spazzatura, vide una ghirlanda che sembrava nuova. Riportandolo nel becco, lo lasciò cadere sulla testa di Sammy. Grazie. Disse Sammy. Questo mi sta bene al collo. Ora, che mi dici di te Scoiattolo? Hai qualcosa? Ti posso usare? Squeaky Scoiattolo riflette per un minuto. Poi tornò di corsa al suo nascondiglio, nell'albero. Dal profondo tirò fuori un grande nastro rosso, che aveva trovato per terra. Eccoci qui, pupazzo di neve. Disse. Ha infilato il nastro sul cappello di Sammy. Fanny topolina di campagna. Ha sentito il trambusto, e ha messo il naso fuori da sotto un tronco. Un nuovo pupazzo di neve? Come va? Vuole essere un pupazzo di neve di Natale. Ha detto Squeaky. Hai delle decorazioni che possiamo usare? Fanny ci pensò un minuto. Poi è scomparsa nella sua tana. Presto tornò con i suoi figli dietro di lei. Spingendo un enorme palla d'oro. È un ornamento per l'albero? Disse Fanny. I bambini l'hanno trovato l'anno scorso. Bellissimo. Disse Sammy. Mentre lo allacciavano sul petto. Grazie amici. Sembro un pupazzo di neve di Natale adesso? Oh sì! Gridò Squeaky Scoiattolo. Vederti, mi fa sentire molto felice e natalizio dentro. Batte le zampe, e iniziò a fare le capriole. Anche i bambini di topolina di campagna, iniziarono a rotolare. Sammy sorrise mentre guardava. Gli piaceva rendere tutti felici. Ho voglia di ballare. Ha detto Fanny. Scivolò intorno agli altri. Ma c'è solo una cosa. Il Natale è per tutti. Gli animali possono vederti qui. Ma non molte persone lo faranno. Sammy ci ha pensato. Poi ebbe un'idea. Vieni qui, Corchi Corvo. Disse. Sussurrò all'orecchio di Corchi. Con un battito d'ali. Corchi volò via. Trovò alcuni bambini, che correvano in discesa sulle loro slitte. Scendendo in picchiata. Afferrò un guanto, che qualcuno aveva lasciato a terra. Torna indietro, Corvo. Gridarono i bambini. Presero le loro slitte. E seguirono dove si trovava il pupazzo di neve. Qualcuno ha decorato il pupazzo di neve. Rimasero ad ammirare Sammy. Non ti fa stare bene? Dicono i bambini. Un vero pupazzo di neve di Natale. Unendo le mani, hanno ballato intorno a Sammy. Sull'albero. Anche Corchi Corvo balla, battendo le ali, per tenere l'equilibrio. Squicky Scoiattolo. Tamburellava su un ramo, con dei ramoscelli. E in basso, dietro un tronco. I bambini del topo di campagna, si divertivano. Di notte, quando tutti dormono, Sammy stava al chiaro di luna. Sentì un bel bagliore dentro. I suoi amici hanno contribuito a realizzare il suo sogno. Non potrebbe essere più felice. Era un pupazzo di neve di Natale.